Sarà a Creti e non a Rigutino questa l'indicazione di RFI per la stazione alta velocità, una scelta che in provincia di Arezzo ha creato non poco malcontento. Piove sul bagnato, diciamo noi del comitato, il gruppo scientifico sta analizzando, per la verità, chiesto in via di urgenza tutti gli atti del tavolo tecnico riunitosi lo scorso venerdì 1 dicembre perché sarà analizzato dagli esperti che abbiamo in qualità di comitato, per quanto escluso dal tavolo tecnico, anche quali meri uditori indetto proprio per comprendere le ragioni di questa che a parere del comitato che parla in nome e conto di oltre 7 mila pendolari vede una scelta a dir poco folle, scelerata in una località quasi desertica dove purtroppo non si realizzano i presupposti oggettivi della mobilità sostenibile e quindi siamo in attesa di verificare quello che i tecnici del tavolo ministeriale hanno così sentenziato. Voi avete anche scritto una lettera al governo Meloni, perché? Qual è il contenuto? Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio, l'On. Giorgia Meloni, di esercitare la sua precipua funzione di controllo sull'operato di questo tavolo tecnico e su quanto finora maturato, proprio perché non ci capacitiamo ancora di come vogliano realizzare una stazione di così impatto anche ambientale in una zona non antropizzata, là dove si realizza la carenza di un presupposto secondo noi fondamentale, cioè la intermodalità gomma-ferro-ferro.